Ciao a tutti ragazzi, io sono Aura e tu sei Ludovica Ragazzi siamo finite di nuovo in prigione Dal poliziotto cattivo Ludovica dobbiamo cercare di fuggire Dobbiamo fuggire Io qui non ci voglio stare Auri ha detto poliziotto, no poliziotti Perché vorrei dire poliziotti, scusa? Perché stanno tutta la famiglia, ci sono tre poliziotti Sì, adesso c'è la nonna, lo zio, la zia, il fratello Auri c'è anche la mamma e il figlio Sì dai guarda c'è soltanto il poli Hai ragione, quindi dobbiamo scappare da tutta Cioè dobbiamo fuggire da tutta la famiglia Perché io in questa prigione non ci voglio stare Auri aiutami a scappare Cioè aspetta, c'è il padre, la madre e il figlio Bene Ludovica cerchiamo subito una via di fuga Auri, ma non c'è via Anzi, no facciamo una cosa Prima ci addormentiamo e domani il partiamo No, 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 non ti addormentare Perché guarda, tu ti avvicini qua C'è una rottura Vediamo Hai ragione Stacciamo rottura Ok Eh ma se usciamo ci sono dei poliziotti Ah vai prima tu Allè Oh ma non mi ha detto di capire Ah non mi ha detto Ok, ok Ludovica nebbiamo cercare Ma guarda c'è uno qua intrappolato Scusa non ti possiamo Ah sono caduta Sei morta Sono caduta Ludovica Ludovica qui c'è una freccia Ma Ma stanno ballando No, no, no per capire Stanno ballando Ma stanno ballando Sono pagati Vabbè comunque Qui c'è una freccia Qui direi di segui Ma tutto bene Direi quindi di seguirla Auri piano Auri piano Con calma Auri piano Auri piano Ok Auri piano Ok Qui c'è un bottone Direi di premerlo Ok Aspetta Ah c'è Oh Ce l'ho fatta Ok Ci sono anche io Andiamo Aspetta Ludovica Però Emma Non puoi spingere Ok perfetto Andiamo 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 Chi è quello? Chi è quello? Bene Ah Mamma mia Scusate Non volevo urlare In questo modo Ma mi hai preso un attacco E ok Andiamo giù dai Hopla Oh c'è un trampolino Oh c'è un trampolino Che carino Ma C'è Mamma mia Un secondino Perché io lo sono qua Ok Bene Ehm Che 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 dobbiamo fare C'è una leva Oh c'è una leva Ok Andiamo Ludovica Oh c'è una fatta Apri c'è una fatta E' sotto C'era il mostro Ok E adesso dove si va? Vini qua Dove si va Ludovica adesso? Vieni qua C'è un bottone qua Vabbè se mi sta non credo C'è un bottone C'è un bottone Cosa mi ha fatto adesso? Un bottone Oh grazie Un bottone mi ha aiutato Ah bene Oh Ok Ok Grazie Bene Ludovica Vi dovete andare di qui No? Auri ho paura che mi esce un mostro all'improvviso Lì è Lì era Luto Lì è dove eravamo Prima noi È vero Ok schiacciamo Ok E infatti Aspetta Ludovica No di ho paura Apri tu una porta Ok Dimmi se c'è qualcosa Sembra un portale magico Oddio Auri Siamo entrati nella stanza dei bambini Ciao Ma siamo entrati nella stanza del bambino Ottieni Luto dobbiamo ottenere Dobbiamo prendere Ma Cosa? Dobbiamo collezionare Tre Ma cos'era il latte? Non ho capito Però vabbè Andiamo avanti Ok Ottimo Bravo Ludovica Ok Ok Luto ma tu hai visto quel bimbo? No dice un'altra bimba Ciao piccolina Che carina che sei Ma che carina che è Ok Aspetta Lì ma vai Sono volta Ho capito Ludovica Chi va piano Ma stare va lontano Chi va veloce Perde il treno No ragazzi Non mi dico Che carino questo bimbo Ehi Come balla Carino Ludovica ti prego vieni Con calma Con calma Con calma Ti devi concentrare Ludovica dobbiamo fuggire Dobbiamo scappare Da questa prigione Io pensavo ci fosse Soltanto il poliziotto Non Tutta la famiglia Di poliziotti Oh Non mi basta Con calma Non è che tanto Io canto una bellissima canzone Così tu intanto No canta Questo siamo noi Questo Siamo noi Ragazzi La sapete questa canzone? Beh Se non sapete Questo siamo noi Andatevela subito Ad ascoltare Vero Ludovica? Dai Ludovica Ah sì Questo siamo noi Tra le nuvole Mi sento Più leggero Qui nel blu Non morire E chi viaggia Contro vento Che può fare la Si utilizza Non è che sta a fare Sì Ok Questa ragazza Funziona Cantare le nostre canzoni Funziona sempre Oddio Ci sono tutti i problemi Ma che casino Questo sei tu Questo sei tu Quando non sistemi la camera Che simpatica Un altro bottone Ok Ludovica è qua Che cazzo Andiamo Andiamo Ok No Adesso incontriamo di nuovo Il verdino No Hey Oh non c'è il verdino Ok Ma quel pulizetto Come si chiama Piano Oh Apri c'è il bimbo Ciao piccolino Che carino Mamma mia Sei cadevo Ludovica Oh sono bravissima Siamo bravi Mamma Ma questi cartelloni No Io non ci vado Ok Ok perfetto Andiamo dai Andiamo dai Bonjour Guarda che È un po' ci sottello Devo dire Prendiamo Sta roba Ha preso qualche chilo Ragazzi Aspetta Questo Lascia cadere Figo Ok Bene Però prendiamo anche questo qua Perché Dobbiamo andare qui Ok Perfetto Ludovica Che carino però Ok Ludo Ok Ludovica aspetta Devo tornare indietro A prendere l'altro Mattoncino No Ma perché c'è un bottone Per fare più veloce Prendi e sposti uno Prendi e sposti uno Prendi e sposti uno Ragazzi è più intelligente di me Ma io non lo so Oddio Io sono già qua Muoviti Lascia cadere Lascia cadere Ma Non era soltanto un poliziotto Vabbè E si è moltiplicato What? Ok Vieni I'm here Vieni Vieni Ma perché c'è un bottone Scusami Maudio Ma quello non serve a niente Muoviti Ma no Volevo vedere se Ah ma tu sei Ah buongiorno Pensavo fossi morta Ok Vieni Oh Ludovica No ma poveri Ludovica Arrivai piano Quella è la fine Che fanno i prigionieri C'è il signor poliziotto Oh no 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 Io non voglio finire qua sotto Poverini Piano Piano No 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 Ah No Ah Ah Mi stavi facendo per cadere Ah scusa No Sono morta Sono morta Ehi 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 Ma noi Risuscitiamo Bene Andiamo Scusate prigionieri Ma noi Dobbiamo Guarda che noi non abbiamo nemmeno la tuta da prigioniere Soltanto noi Non abbiamo la tuta reale Ma solo la lox non ce l'abbiamo Ok Perché noi Non ci cambiamo mai vestiti No Ma che buono Ma cosa ridi Non sei simpatica Aspetta Eh no 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 Aspetta mi ti prego Io ho paura Io fuggi Ma dove sei Sei in castigo Muoviti Ma come hai fatto a saltare Mamma mia Devi prendere la Ma io per forse devo prendere il trampolino Sì Dai Apri che c'è Ecco Ma Dove non riesco Ma perché c'è il tablet Salta 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 Va in centro Non so quante volte sono morta Ok Auri Uno Uno Due Tre Piano Non sai perché ti perdi Perché perdo Perché Perché tu devi andare al bordo del trampolino E io dove sono E poi salti Vai 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 Al bordo Bordo E salta Salta Vedi Ragazzi 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 Non parlate Ok Non dovete parlare Perché se parlate Non parlate Allora Noi andiamo Ok Bene Andiamo Ma perché c'è questo trampolino Ah che bello Salta Ah direi ma se cari non succede niente grazie Ludovica mi hai fatto cadere adesso vedi che arriva il poliziotto ma cosa ho fatto il girotondo io sono più veloce e sono più brava non è vero voglio vedere te col computer è ancora a primo livello ok io ti sto aspettando e no ancora questo 1 2 si bene aspettami che cosa è ah si faccio ah beh easy dai easy ok bisogna aprire ok ok oh dai dai scendiamo no dobbiamo scendere no 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 qui arriva qualcuno c'è il ca sono morta ma che cosa ho fatto per morire scusami no ragazzi ma veramente ma cosa devo fare ah tu qua forse vieni ah ma ci sono i cani puliti cosa dobbiamo fare sono i puliziotti ah ah non ce l'ho fatta ma perché sono morta ma dove sei ah ma è facile ma perché muoio ah è facile ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono bravissima devi andare tutto di corsa Rodica tu mi devi aspettare ok mi sto nervosendo mi sto nervosendo ah sono mamma mia ma se io vado giù non succede mamma mia ti becco i tre cani noi siamo gli uniti avrei avrei penso che c'è tre cani ok bravo si vieni ok non mi lasciai da sola vieni ok vai cos'è qui grazie ora vai Rodica sì comunque ragazzi i consigli i consigli di mia sorella servono ha detto a Orange vende tutto quanto di corsa ed è vero cos'è acido ottimo direi ho pipì ma non è pipì no 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 ferma non andare Luto ah il pulsante ma cosa non fare ho scacciato il pulsante io l'ho scacciato sono fortissima ok off si devo dire che sei molto più brava di me però vabbè dai cos'è che c'è scritto vabbè Ari ma che ce ne frega cosa c'è scritto aspettami però mamma mia mamma c'è il bagno c'è il bagno aspettami no Lulu però mi devi aspettare ma tu non ti muovi no ma che cosa c'entra vai che è quello c'è un occhio che ci segue vuoi scelta I see you che simpaticone oddio dobbiamo controllare ha detto lavati le mani io ti vedo una bomba una bomba che carina la bomba cosa dobbiamo fare con la bomba dobbiamo trovare la bomba ah è qua la bomba dov'è la bomba vieni qua dai lo dica ma mi hai spoilerato tutto eh sì perché ho già visto ok ottieni ok no apri c'è ok aspettami oddio ok mamma mia devo mettere la bomba no 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 ma perché non va perché la devi prendere avrei ma non ci ho preso la bomba ehi mamma mia ragazzi sono scacciarla e poi che devo fare scacciarla ah vedi che c'è la bomba eh eh ho visto vedi ah che lordovica vieni qua ho visto già holy school che cosa ma io ne vado a dio oh avrì c'è una scuola di polizia ok avrì c'è il poliziotto sta insegnando ai ragazzi cosa diventare dei veri propri poliziotti ah oh stavo cadendo avrì sono fortissima anche io guardami ma perché sei fortissima thank you so sei fortissima ehi non prende il giro ok sei fortissima non prende il giro oh però io vorrei un attimo cioè vorrei fare un corso di polizia non mi ricordo auri se no poi sei cattiva tu devi essere buona a parte che i poliziotti sono buoni ok ma in questo gioco sono cattivi quindi questo poliziotto sta insegnando a questi ragazzi come essere dei poliziotti cattivi vediamo no andiamo andiamo io non ci vado ok e io non ci vado bonjour che cosa dobbiamo fare auri dobbiamo andare là semplice dobbiamo prendere dobbiamo prendere l'alena si ok auri vai prima tu vedi come funziona vai prima tu io che simbaticona andiamo insieme Ludovica vai tu vai tu ok l'ho spinta Ludovica Ludovica premi la leva ecco adesso hai visto come funziona ok bene ce l'ho fatta grazie ah ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta aspettami no aspetta ok sono morta perché c'è una povera che schifo io ce l'ho fatta mi sto nervosendo mi sto nervosendo auri guarda io dove sono non me ne frega niente aspetta ma ti do un altro conflitto esatto dammi tu i consigli vai al bordo aspetta vai 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 vicino no vai devi andare jingle bell jingle bell jingle bell razzle perché tu non devi andare vicino al poliziotto non devi fare il giro giro conto ce l'ho fatta noi siamo gli unicorni il grande esercito del cuore si 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 era speciale noi siamo gli unicorni dai vieni a cantare con noi oh oh non ci arriviamo mai ehi aurora se l'ho fatta perché sono morta non toccare le papere paperelle piccole paperelle schiaccia la leva e dov'è oh ti prego ti prego oh oh dove sei sono qua si ma lo so mi puoi anche aspettare ma non ti vuoi io mi stanco ma tu devi aspettare il tuo sorello no aspetta salse sal bordo scavito salta salta bordo 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 ok salta salta ma su me da qua bisogna andare è uno scherzo avrei ascoltami così io sono anche morta quindi si ma adesso io qua come faccio ad andare avanti tu devi andare avanti perché tu non c'hai niente tu devi saltare guarda così mi hai vista che era un attimo in un momento salta 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 sei morta si ludo 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 vediamo un po' di cosa stanno facendo sono un po' vieni sono un po' depressi ludo 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 ottieni 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 che cosa ho già ottenuto io perché ovviamente sono l'unica ludo però uno alla volta vieni ok vai andiamo ok ludo oddio che bello non c'è nessuno oddio oddio aiuto aiuto non mi piace la con me questa non mi piace oddio prendiamo l'auto oddio non mi sto mangiando aiuto c'è una pistola abbiamo una pistola mi ha mangiato mi ha mangiato oddio sono ancora viva adesso 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 faccio io questo brutto moscerino brutto moscerino ma io dove come faccio come faccio ad uscire come faccio ad uscire come faccio ad uscire aiutami aiutami ma non c'è più la pistola ma in realtà non mi stacciono niente ok facciamo gli unicorni poliziotto duro addio carino ma dove sei andata sono morta ok 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 mi sconfingo mi sconfingo brutto moscerino potere degli unicorni ecco qua ben ti sta ok ragazzi Ludovica è già là me pareva ok Ludovica aspetta mio amore ok perfetto non voglio partire ok alla guida ma io come faccio a cadere ma io come faccio a lasciare ma andiamo ma io come faccio a lasciare qua Ludovica andiamo ciao ma non mi va io sto partendo ciao ma come stai partendo ma come stai partendo Ludovica in che senso stai partendo ma almeno ma almeno sto ho detto prima di te il bonus come hai vinto prima di me ma a me non si toglie questo coso Lori mi vedi aspetta ah ecco ok mi vedi ok perfetto ragazzi sono riuscita vieni andiamo alla guida ok vieni andiamo perché non va ok mamma mia ragazza adesso la investivo Ludovica vieni bene non dirmi che abbiamo finito non dirmi che siamo riusciti a scappare Auri vai qua siamo riusciti a scappare ragazzi Auri non ci può 25 e grazie al potere degli unicorni e grazie a voi ragazzi siamo riusciti a scappare Auri vai in due pulsanti che devo fare? e Ludovica no vai in due pulsanti che bello adesso andiamo a fare un bel giletto Lulu che bello guarda Auri sono sopra c'è spugli vuole io Lulu che bello ciao poliziotti ciao e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video speriamo perfetto speriamo che questo video vi sia piaciuto e siamo riuscite a scappare dalla prigione della famiglia di poliziotti vero Lulu? si e cosa devi dire ai nostri unicornini? e va bene ragazzi iscrivetevi e attivate la campanellina e lasciate tantissimi polizioni in su fatelo e ciao ciao questo è pop questo è pazza noi siamo gli unicorni grande esercizio del cuore se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale noi siamo gli unicorni beh vieni a cantare con noi oh 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 non ci arrendiamo mai ciao 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 ciao